Con l'evento di apprendimento della discussione intendiamo tutte quelle attività che stimolino gli studenti a formulare domande, argomentazioni e contrargomentazioni, valutando in modo riflessivo e critico i diversi punti di vista. Iniziare e sostenere una discussione produttiva è un'attività estremamente sfidante per gli studenti, ma i risultati in termini di apprendimento non sono da sottovalutare. Infatti, in contesto didattico, la discussione consente non solo la comprensione profonda e articolata del contenuto, necessaria per portare avanti le proprie argomentazioni, ma anche lo sviluppo di capacità trasversali. L'aspetto collaborativo è qui intrinseco, ma la sfera comunicativa e di negoziazione risultano ugualmente rilevanti. A questo si aggiunge poi la facile connessione ad altri eventi di apprendimento, che rendono quindi l'esperienza dello studente più completa e profonda. Tra gli altri, la rielaborazione e la metacognizione sono sicuramente più affini come il pre e il post dell'evento di apprendimento nella discussione. Tra le metodologie didattiche più rifuse rientra sicuramente il debate, in cui i due squadre alternano i pro e i contro relativi a un tema. Ma non è la sola. Altri esempi possono essere discussioni strutturate a coppie, in gruppo o a livello dell'intera classe, o ancora discussioni gestite dagli stessi studenti, oppure lasciate completamente libere. Vediamo quindi come l'evento di apprendimento della discussione prevede diverse modalità organizzative di interazione tra i nodi della rete e può essere strutturato seguendo tecniche e regole differenti. Anche in questo caso le possibilità sono molteplici. Vedremo come i canali e le piattaforme didattiche istituzionali a disposizione di docenti e studenti possono essere davvero un mezzo potente per ipotizzare nuove esperienze di apprendimento e supportare a pieno la progettazione del docente. Quindi come può un docente inserire questo specifico evento di apprendimento all'interno del suo corso? Un primo esempio può essere quello in cui il docente presenta i contenuti in aula, magari con lezioni particolarmente interattive, quindi che prevedono una raccolta di contenuti ad alta interattività e lasci poi modo agli studenti di rielaborare in autonomia quanto visto insieme. Per la successiva lezione in presenza può poi prevedere un momento di discussione a coppia, per approfondire determinate tematiche e attivare gli studenti. Ma attenzione, la presenza non è la sola opzione. Il docente può ottenere lo stesso risultato sfruttando anche gli altri scenari d'aula, spostando nel momento della discussione online, sincrono attraverso le sottosessioni o breakout room, asincrono tramite forum o altri applicativi specifici. Proviamo ora a pensare ad un esempio in cui la discussione sia un momento chiave e non solo collaterale per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. In che modo il docente può progettare una parte del suo corso avendo questo in mente, possiamo immaginare case in cui la raccolta di contenuti, svolta online in modalità asincrona, sia seguita dallo svolgimento in autonomia di un breve progetto gruppi. Ed è in questo momento che il docente può pensare di inserire la discussione. Per esempio, può chiedere agli studenti di sintetizzare il lavoro del progetto in una breve registrazione audio-video da consegnargli e condividere con i colleghi, in modo tale che tutti abbiano una visione complessiva di quanto fatto da diversi gruppi. Con questa base, il docente può impostare nella successiva lezione in presenza una discussione strutturata che coinvolga l'intera classe. Potrebbe proporre agli studenti un tema trasversale da affrontare, tipo, partendo da questi progetti, tutti validi? Quale potrebbe essere il più sostenibile da un punto di vista ambientale, amministrativo o tecnico? Quali fattori sono da tenere in considerazione per la scelta? L'output della discussione può poi essere lo spunto per introdurre altri contenuti del corso, oppure per dare avvio a un processo di riflessione e metacognizione sul progetto o sulla generale esperienza di apprendimento di ogni studente. Così facendo, il focus non sarebbe sul progetto svolto in quanto tale, che resterebbe invece come un'attività propedeutica formativa, quanto piuttosto sul confronto tra gli studenti che è la discussione veicola. In questo senso, l'evento di apprendimento nella discussione può avere quindi una funzione anticipativa, di approfondimento o riflessiva, in base al taglio che il docente vuole dare all'attività.